Diffusione delle malattie neoplastiche nel Cilento è il titolo della giornata di studi che si è svolto sabato scorso a Palinuro. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Grande Lucania Onlus, braccio operativo nei temi sociali della Banca del Cilento di Sassano, Valodidiano e della Lucania, preseduta dal senatore Franco Castiello. Nel corso dell'incontro si è tracciato un bilancio sulla diffusione delle patologie tumorali a sud della provincia di Salerno e si è parlato di incentivare la ricerca scientifica sul campo. Ogni anno abbiamo 27.000 nuovi ammalati di tumore, ha dichiarato ai nostri microfoni il senatore Castiello. Io parto dalle statistiche perché bisogna ragionare su fatti concreti e su evidenze di tipo numerico, di tipo statistico. In Italia abbiamo attualmente 3 milioni e 300 mila ammalati di tumore con una percentuale di guarigione del 27%. La Campania ha il triste primato perché è la regione nella quale si ammala ogni anno un numero di 27.000 persone. Ogni anno abbiamo 27.000 nuovi ammalati di tumore. Quali sono le ragioni? Perché questa situazione poi della Campania naturalmente trova rispondenza anche nel Cilento che pur essendo ambiente protetto perché noi siamo nel parco, facciamo la dieta mediterranea, siamo deindustrializzati perché da noi non ci sono ciminiere che con le polluzioni atmosferiche inquinano l'ambiente. Ebbene, in luogo di avere una percentuale di malattie tumorali inferiore alla media nazionale, abbiamo invece il contrario. Ci sono alcuni distritti del nostro circondario dove addirittura si supera la media nazionale. e allora questo convegno ha il significato di approfondire le cause che naturalmente si risolvono in insidie al nostro territorio. Sono di origine alimentare, le acque per esempio che scorrono attraverso tubazioni di cemento amianto che hanno le acque potabili che hanno 50 anni d'età. Il CONSAC, il Consorzio degli Acquedotti, sta lodevolmente sostituendo le tubazioni. Poi ci sono qui e lì discariche abusive che naturalmente col percolato hanno inquinato la falda freatica attraverso minerali pesanti. Poi abbiamo inquinamento elettromagnetico, non dimentichiamo che noi abbiamo sul Monte Stella un radar potentissimo, le cui onde si irradiano fino alla Sicilia. E poi si teme che in occasione di varie opere pubbliche fatte sul territorio ci siano potuti essere interramenti di materiale pericoloso perché su questi appalti è intervenuta purtroppo la camorra. Le azioni che intendiamo portare subito avanti sono quelle di innanzitutto dare attuazione al registro dei tumori. Si tenga conto che nella provincia di Salerno il registro dei tumori è fermo dal 2008-2009. Qui sono 10 anni di elettroencefalogramma piatto, cioè un registro che non viene aggiornato. Questo è gravissimo. Insomma, avere un registro dove viene monitorata la diffusione epidemiologica del fenomeno ne consente la prevenzione e il controllo. Ora noi come Senato abbiamo varato qualche giorno fa il disegno di legge 535 che prevede obbligatoriamente il funzionamento di questi registri in tutte le regioni, in tutte le province italiane perché la legge crea una rete, la rete dei registri dei tumori. Quindi è possibile attraverso questa innovazione legislativa rimediare anche a situazioni scadenti come quelle nella regione Campania e nella provincia di Salerno dove c'è questa defianza e dove c'è questo disinteresse a livello di realizzare un referto epidemiologico e un monitoraggio sulla diffusione della malattia.